Lei possiede un obiettivo che per questa ragione la sua obiettività è ovvia. Guarda chi c'è. Carlo che vogliamo fare? Pronti? Continuiamo. Invena. Faccio scaldare un po' l'ambio. Invena stasera è un grande. E' un grande. Il carrozzone. Sognerebbe usare questo sistema pure con Grillo. E adesso spogna triste. Vabbè, l'asta è pronta. Siete pronti in regia? Tre. Due. Uno. Zero. Non ho finito in discesa. Pensavo che non li prendi. Tutti pazziati. Allora, il tempo. Non è stato in regia. No, non è stato in regia. Tre. Tre. No, non è stato in regia. Era a cento. No, non è stato in regia. 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 Resto qui così a cercarmi nei tuoi occhi dedicati come fiocchi che di neve e vento ha portato qui stella di passaggio ad illuminare questo viaggio che facile non è pieno di speranze e arrese è lunghi attese ma la vita che mi aspetta non mi fa matura il domani che mi aspetta non mi fa matura c'è una forza che fa superare ogni maniera così intensa e dura come una preghiera è la vita che mi aspetta e non mi fa matura e non c'è un perché molto spesso non c'è un senso in mania di questo immenso come dei granelli trascinato qui goccia di rugia rosa che non sarà mai una strada mai non c'è un senso in mania di questo immenso come dei granelli che mi aspetta non mi fa matura il domani che mi aspetta e non mi fa matura c'è una forza che fa superare ogni maniera così intensa e dura come una preghiera è la vita che mi aspetta e non mi fa matura è la vita che mi aspetta e non mi fa matura ogni giorno è un po' in nascere e tornare a vivere con te ogni giorno è una scommessa da non perdere tu mi sfiori e c'era come una farfalla e poi mi dai un pare a me dita e mi insegni che non è mai finita nella sfida con la vita ma la vita che mi aspetta non mi fa matura c'è una forza che fa superare ogni maniera così intensa e dura come una preghiera è la vita che mi aspetta e non mi fa matura è la vita che mi aspetta e non i ci ei Stasera è una grandissima furma, eh? Guarda l'anzagno qua, perché stanno... Guarda l'anzagno qua... Guarda l'anzagno! Guarda l'anzagno! Guarda l'anzagno! Guarda l'anzagno! Grazie. Vigo. Grazie. Eccolo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché il mio pubblico è un pubblico che sfonda il video, capito? Buca il video, ok? Quindi se ci daranno l'Oscar, che sia un Oscar da bagno così se fanno un bel bagno di quelli, purifica tutti. Vi adoro! Grazie. 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 Grazie.